Good morning, anche se direi più buon pomeriggio, buonasera, perché qui sono le 3.35. Mister, Master, Maestro, o semplicemente, o semplicemente, David, Ginch? It's December 26, 2021, and it's a Sunday, it's in Naples, 59, Fahrenheit around 15 Celsius. And this means che quella giornata non è quella giornata veramente, 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 veramente fredda in questi giorni, in questo periodo, perché comunque ci sono dei gradi in più che non consentono di dire che è così. Quindi, almeno per me, è così. Oggi pensavo, diciamo, ancora una volta al mio regalo, l'ho fatto ieri, diciamo, la colazione per lei. Se qualcuno l'esse rivedere, non l'ha visto, inserisco in nuovo il link, ridere, diciamoci penso perché mi fa ridere. E poi ringrazio Sara anche per quello che, per il commento, ma poi se ho tempo la rispondo meglio, diciamo. Poi, sì, una volta finito di girare questo video, diciamo, Forbidden Colors pure, che ho caricato un pezzo per il Natale, diciamo, l'ha ricaricato. Anzi, una volta finito di girare tutte queste due cose, diciamo, nelle varie piattaforme, poi caricherò, inizierò a caricare gli altri pezzi di cui ho parlato nei giorni scorsi. Partendo, credo, dal main theme dell'ultimo di Moicani, di cui già avevo caricato il preview nel report, praticamente, di ieri. Poi seguiranno, appunto, gli altri pezzi, ma poi, appunto, nei giorni successivi, gli altri film. Seguiranno, appunto, altri pezzi, gli altri film sempre di cui ho parlato, chi sa che mi segue sa quali sono i film. Comunque seguiranno i giorni successivi, il tempo, ovviamente, di montarli, di fare tutte le operazioni necessarie. Sul resto, non sto pensando a nulla, la ringrazio sempre per il giorno 2 di Weekend Projects. Gli cambio la fortuna per i suoi progetti. E poi, buon santo Stefano, non so se si festeggia anche nelle altre parti, comunque, il tre nazioni, buon santo Stefano a tutti. Anyway, as you just see from the window, Absolutely, we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine. È inutile, non c'è nulla da aggiungere, perché, comunque, è brutto. Cioè, che cosa posso dire? Dirò la frase cult. Cioè, ovviamente, le cose possono cambiare, un momento all'altro. Batta solo e sui will, sì, però, francamente, la vedo un po' impossibile. In questo caso, sede di... So, from the mythical window, anzi, oggi non posso dire, perché sono un'altra stanza, però cambio, appunto, gli aggettivi. From the southern mythical window, with the white curtain, and these flowers, create flowers. Un rosa un po' chiaro, diciamo. E quindi, and it's grey roller shooter. Sì, diciamo, non la posso inquadrare, purtroppo, più di tanto, perché non ho mai fatto la ripresa di questa tapparella. Non dico la frase con enfasi, ovviamente, perché è inutile dirlo, visto il tempo. Poi è vero, non abbiamo Dose Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine, ma in questi casi di dicembre abbiamo... Dose beautiful, giant, magical, and golden, golden, and white balls and objects from the Christmas pine tree. Che, appunto, possono sostituire, anche se ovviamente non sono grandi come loro, possono sostituire, però, degnamente, Dose Beautiful Blue Skies in Golden Sunshine. E un saluto anche da The Tether Mythical Window, with the white curtain, and the grey roller shooter. And finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640, IPG 625. Have a great day, him, all the people, follow the channel and the reports. Sì, un saluto veramente a tutti. Sì, so again, have a great day, him, all these people, and everyone too. Ripeto, buon Santo Stefano a tutti.